Ciao a tutti ragazzi, allora questo doveva essere un video fatto con Red in serenità, dove eravamo presi bene e dove vi raccontavamo quello che sta accadendo e che stava per accadere quest'anno. Purtroppo Red oggi non è qui con me perché gli è accaduta una cosa molto seria a livello personale, lo abbraccio fortissimo, voglio dirgli fratello io sono con te, vedrai che andrà tutto bene. E sono qui oggi anche per raccontarvi un po' di novità, sono cambiate tante cose, è stato un periodo dove abbiamo capito di che pasta sono fatte alcune persone, ho perso tante cose per la strada, tante cose sono accadute. Ma non solo, perché abbiamo smontato il nostro vecchio studio, non siamo più nello studio in via Giacomo Zanella dove c'era OneShot, ma l'abbiamo spostato e siamo da un'altra parte. Ecco, vi lascio qua, non so, delle foto, dei video, non so adesso cosa troverò, però lo studio sta prendendo forma, lo studio partirà in queste settimane, in questo momento siamo in un studio di emergenza, un studio affittato che non è nostro perché stiamo costruendo, anzi Red sta facendo un culo così ragazzi per fare questo studio che partirà. Ricominceremo a streammare tutti i giorni su Twitch ragazzi, vi lasciamo il link del canale Twitch qua sotto e non solo perché ripartiremo anche con le reaction ragazzi. Sì, sappiamo di essere in ritardo con Back to School, il programma che stiamo facendo su Canale 5, ma calma ragazzi perché inizierà la terza stagione di Tu Hot to Handle, che noi vogliamo commentare, visto che abbiamo commentato la prima stagione di Tu Hot to Handle ed è stato incredibile. Ma non solo, perché riprenderà a marzo anche la caserma, quindi vi aspettiamo ragazzi per commentare la caserma. Tantissime cose nuove sul nostro canale, ma sono anche qui oggi per chiedervi scusa perché non è mai successo in questi anni che ci fosse una pausa così lunga, una pausa di un mese durante il periodo di natalizio. Di solito vi mettevamo le interviste o comunque continuavamo a fare reaction. Quest'anno è stato un po' così, un po' per il Covid, perché il Covid ci ha messo un po' i bastoni tra le ruote, un po' per tante situazioni, diciamo che capiamo anche voi che siete a casa, che siete lì, che volete vedere nei nostri video perché magari siete in quarantena. Lo capiamo, lo comprendiamo e vi chiediamo scusa. Purtroppo il periodo non è facile, è un periodo molto difficile, stanno cambiando parecchie cose nella nostra vita, stanno cambiando un sacco di persone che fino a ieri erano colonne portanti di tutto quello che facevamo, sia a livello professionale che a livello personale, perciò stiamo ritrovando, ricercando tantissima energia e abbiamo bisogno di voi. Di voi vi supportate tutti i giorni, di voi che ci date calore, che ci fate sentire la vostra presenza. Mi vedete un po' afflitto, vedrete che le cose si sistemeranno, dateci un attimo di tempo. Già questa settimana ricominceremo con i nostri video. Quindi calma ragazzi, vi chiediamo ancora scusa per tutto quello che è successo, per tutto questo ritardo, ma ci siamo, non stiamo andando via, siamo qui per voi, siamo con voi, perciò grazie mille per aver ascoltato questo messaggio e ci vediamo, ci vediamo prestissimo. E Red, ti abbraccio ancora, ti voglio bene e sappi che ce la faremo insieme. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie.